Delusione naturalmente comprensibile per il K.O. Casaringo, ma Torres è più squadra. Nel complesso non una serata fortunata, due traverse, il pareggio sarebbe stato più giusto. Purtuttavia, i Sardi non hanno rubato nulla. I Biancazzuri hanno concesso troppo in uno scontro diretto. Non è il massimo, nel primo tempo Pizzari decisivo. In chiusura di frazione a Cornero fa una gran giocata, ma l'atto del dunque spreca. Nel secondo tempo il Pescara riparte male, incassando due gol nelle breve volgere di quattro minuti. Il primo di Masala, subentrato dopo un quarto d'ora all'infortunato Zecca ex Teramo. Il secondo del talentuoso Francesco Ruocco, sugli sviluppi di una punizione a favore del Pescara, nella tre quarti avversaria. Squadra scriteriatamente sbilanciata, senza coperture preventive. Addirittura Merola, ultimo uomo, una rete letteralmente regalata. Poi ci mancherebbe grande reazione, l'1-2 di Merola. I clamorosi legni colpiti da Moruzzi e Cangiano. Insomma, il pari sarebbe stato più giusto, ma la Torres ha dimostrato di essere più squadra e che si trova al comando della classifica non per caso. Una delle chiavi del match è la posizione di Francesco Ruocco. Il 10 sardo parte largo a sinistra per aiutare Kujabi, adattato come quarto di centrocampo. E poi si accende tra le linee con la sua qualità. In quella zona di campo, Catena, Pierno, Tuniov, Merola, il Pescara viene fortemente limitato. In generale, nel primo tempo a fare la partita è proprio la Torres. E poi c'è un tema ineludibile. La mancanza di un centravanti di ruolo in grado di fare gol e di offrire più soluzioni. Cupone è generoso, gioca distinto, ma ha bisogno di attaccare spazio e profondità, che spesso gli avversari non gli concedono. In campionato, Vergani ha collezionato soltanto 28 minuti, Tommasini, utilizzato ieri per l'intera ripresa, 118. Il Pescara è oggettivamente meno competitivo dello scorso anno. Senza un vero centravanti sta facendo anche troppo.